molti spiegano questo fenomeno invece è proprio così mi disse un partecipante al gruppo metafonico di marcello bacci a grosseto a chi era seduto accanto a me avevo detto mi sembra una cosa incredibile che franco grigiotti possa continuare a parlare in metafonia con la moglie trapassata stavo assistendo al fenomeno delle voci elettroniche fwe conosciuto anche col nome di psicofonia o metafonia o transcomunicazione strumentale molti spiegano questo fenomeno come apofonia definibile come il riconoscimento di schemi o connessioni in dati casuali o senza alcun senso o come pareidolia che è l'illusione subcosciente che tende a ricondurre a forme note oggetti o profili dalla forma casuale come è ineluttabile nella condizione umana ognuno interpreta questi fenomeni con le possibilità della sua mente alcuni dicono con il marcio della sua mente perché marcio perché la mente cerca da sempre di spiegare i fenomeni della coscienza di cui la mente una coda senza mai riuscirci e tutto ciò che la mente dice a riguardo non può che marcire perché la mente ritorna infinitamente su se stessa secondo i maestri immateriali infatti la mente è la penultima verità della condizione umana mentre la coscienza è l'ultima verità da molti anni marcello bacci si mette in comunicazione con le voci attraverso un apparecchio radio ho ascoltato intere frasi molte delle quali perfettamente comprensibili a differenza di altre situazioni metafoniche che ho frequentato grazie a questo contatto che io credo superumano franco grigiotti e mirella brunori hanno potuto comunicarsi per lungo tempo il loro amore al di là del trapasso di mirella è quello che sia l'ultima verità di solitore del trattato 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 di solit